Il governo che c'è, come quello che c'era ieri, come quello che verrà domani, si mettono in testa di ascoltarci e di fare seriamente le cose. Perché a tutt'oggi anche i nostri parlamentari, durante la campagna elettorale, hanno poco parlato di noi. Dico poco, per non dire niente, e spero che il nuovo governo che entrerà, che abbia le capacità di ascoltarci e di mettere in pratica ciò che serve perché il lavoro sia veramente sicuro. Quindi uno quando va a lavorare deve tornare a casa. Intervenire per un lavoro sempre meno precario è sempre più sicuro. L'appello alla politica da parte dell'ANMIL e l'Associazione dei Mutilati e Invalidi arriva nella giornata nazionale dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro, celebrata a quarto con un incontro e una messa nella chiesa di Santo Stefano. Presente è anche l'arcivescovo e segretario generale della CEI, Giuseppe Baturi, che ha parlato di lavoro come espressione di amore. Nell'omelia di Don Giulio Madeddu, un invito a riflettere sulle ferite non solo fisiche, ma anche psicologiche e relazionali dei traumi sul lavoro.